Buonasera signore e signori del crimine, benvenuti o bentornati in questa nuova puntata TG Crime, che dedicheremo quasi nella sua interezza alle novità sul caso Sarascazzi. Sembra che ci sia la possibilità della riapertura del caso, si ricomincia a parlare nelle varie trasmissioni di questo caso, anche immagino in vista dell'uscita della serie Disney+, se non sbaglio il 25 ottobre. Oltre a Sarascazzi vi parlerò anche del giallo di Rozzano, dove un ragazzo di 31 anni è stato misteriosamente accoltellato nel cuore della notte mentre tornava a casa dal lavoro, poverino. Una situazione molto simile a quella di Sharon Verzeni, ma che non ha la stessa copertura mediatica, ma la vedremo insieme. Prima di addentrarci nelle notizie, però chiedo a voi dello YouTube di iscrivervi al mio canale per sostenere il mio lavoro, grazie mille se lo farete o se lo avete già fatto, e di venirmi a trovare in live su Twitch. In questo momento io sono in diretta, insieme a queste bellissime persone che mi accompagnano nella narrazione, commentano e ragioniamo insieme, quindi venite a dare il vostro apporto, la vostra opinione è importante e siamo qui ogni martedì, giovedì e domenica alle ore 20. Se invece volete avere direttamente a che fare con me, potete trovarmi anche su Instagram come Bugalalla. Grazie mille e buona visione! Dovrò parlarvi lungamente delle novità sul caso Sarascazzi e poi vi dirò che non appena uscirà la serie io sarò prontissima con una mia serie di speciali sul caso Scazzi, quindi andremo a vedere come al solito tutte le anomalie, come hanno lavorato gli investigatori, che cosa è stato fatto di terrificante durante il processo e durante le indagini e come al solito le nostre super mega inchieste a cui ci siamo ormai affezionati. Tra l'altro volevo dirvi che è pronta la prima puntata di Clerogate, un'inchiesta sul mondo del clero legata alle attività pedo dei preti e anche di cariche più alte. Sarà una serie di almeno tre episodi inizieremo la prossima settimana, se non erro, giovedì con la prima puntata e preparatevi perché sono storie pesanti ma sono storie da ascoltare. Qual è la grande notizia del momento? Che Sabrina Misseri insieme alla madre Cosima, che come sapete sono state condannate all'ergastolo in via definitiva il 27 febbraio del 2017 per l'omicidio di Sara Scazzi, avvenuto il 26 agosto del 2010, ebbene hanno fatto ricorso, ma già nel 2018, alla Corte Europea per la riapertura del caso. Poi sapete che ci sono sempre delle lungaggini infinite, soprattutto quando ci si rivolge alla Corte Europea, che ha una coda di casi da analizzare che non finisce più, in più nel mezzo c'è stato anche il Covid, e insomma una risposta pare che sia arrivata in questi giorni. Infatti un'intervista dell'avvocato Nicola Marseglia, che rappresenta Sabrina Misseri, è stata esplicativa rispetto alle ultime novità. Vi leggo le parole dell'avvocato. La Corte di Strasburgo ha ritenuto ammissibile il nostro ricorso per violazione dei diritti della difesa. Si è in attesa della fissazione dell'udienza di trattazione davanti alla Corte Europea del ricorso che è stato presentato dalla difesa. Questo processo, non dico che è un unicum, però ha assunto i caratteri dell'eccezionalità, in effetti. Prendendo spunto da alcuni passaggi paradossali di questa vicenda, si possono prospettare argomenti che possono valere anche al di là del caso specifico. In particolare l'avvocato di Sabrina Ecosima si è appellato al sogno del fioraio, che se conoscete bene il caso, sapete, è stato portato avanti come testimone chiave, ma anche come testimone contro di se stesso durante appunto le indagini e anche il processo alle due donne. Peraltro io stavo anche ragionando su un altro aspetto. Mi ha fatto strano come Misseri, zio Michele, Michele Misseri, sia stato mandato a processo. Ve lo dico, io ho sempre avuto l'impressione che Michele Misseri non fosse una persona in grado di intendere di volere, nel senso che mi sembra un Vanni, messo un po' meglio, ma non mi sembra una persona con le facoltà cognitive tutte a posto, ok? Poi non so, è una mia impressione, io chiaramente non gli posso fare delle diagnosi, non sono un medico, tuttavia mi fa strano che sia risultato capace di intendere di volere un soggetto del genere e che soprattutto abbia affrontato un processo e quindi sia stato riconosciuto in grado di stare a processo. Poi ditemi voi se avete avuto la stessa impressione o se sono io che vaneggio, perché non lo so, ma mi ha lasciato un attimo così. È diventato un meme, infatti, tra l'altro lo sa anche lui di essere un meme, l'ha detto che è lo zimbello. Un soggetto fragile che va dove tira il vento, manipolabilissimo, ecco che giustamente l'avvocato dice non sono stati rispettati i diritti della difesa e in particolare si riferisce ovviamente alla difesa di Sabrina Cosima, ma si riferisce anche alla usabilità, passatemi il termine, di zio Michele. L'avvocato di Sabrina contesta il metodo con cui gli inquirenti hanno condotto le indagini, direi che lo contestiamo tutti perché se guardate quelle indagini sono qualcosa di folle, e anche il metodo utilizzato in fase dibattimentale a processo. Secondo lui, infatti, ci sarebbero state una serie di cattive applicazioni della legge, prima processuale e poi sostanziale. La svolta ci fu dapprima come prima svolta con il ritrovamento del cellulare di Sara, a circa un mese dalla scomparsa della ragazzina. E poi ci fu la prima confessione, dico prima perché ne ha cambiate sette, di zio Michele, che nella notte tra il 6 e il 7 ottobre 2010 si autoaccusò dell'omicidio di Sara, indicando anche dove trovare il corpo. E ricordiamo tutti tristemente che cosa successe poi a chi l'ha visto, che quando lui ha fatto ritrovare il corpo, a chi l'ha visto, la Sciarelli ha comunicato il ritrovamento del corpo in diretta alla mamma di Sara, c'è qualcosa di osceno. Tant'è che la mamma di Sara in quel momento non ci voleva credere, pensava fosse un prank, no? Ma ci sta, anche perché uno dice ma non è possibile che mi venga detto in diretta televisiva, sarà uno scherzo bruttissimo, ma sarà uno scherzo. Ovviamente c'è l'intervista della mamma di Sara, se non sbaglio si chiama Concetta, che dice proprio io lì in quel momento non ci volevo credere perché era troppo assurdo che me lo stessero dicendo così. e invece, e invece è successo. Zio Michele è stato sentito dagli inquirenti ben sette volte e spesso cambiava versione e spesso le sue versioni risultavano contraddittorie e ambigue. Fatto sta che quella che venne presa per buona fu, tra le sette versioni diverse, quella in cui lui attribuì alla figlia Sabrina la responsabilità del delitto. E qui dice l'avvocato. A questo punto si muovono di pari passo il sospetto che Michele Misseri voglia coprire qualcuno e che questa confessione possa essere vera fino a un certo punto. Inizia qui il metodo abbastanza anomalo per quella che potremmo definire la maieutica inquirente. Sapete cos'è la maieutica? È quella scienza oratoria per la quale ti fanno venire fuori le idee. Questo termine lo usava Socrate se non sbaglio lo ha inventato proprio Socrate in realtà la maieutica sarebbe il far partorire le donne così come gli animali. Socrate la inventò in senso filosofico ovvero lui faceva partorire le persone delle loro idee non gli faceva partorire nuove idee nuove intuizioni attraverso il dialogo. Ecco che questo avvocato definisce maieutica inquirente in modo molto elegante molto sofisticato mi piace questo avvocato devo dire il modo che hanno avuto gli inquirenti di tirare fuori un po' far partorire a Michele la versione che era loro più comoda. Tirare fuori da Michele Misseri tutto quello che si può blandendolo e portandolo per mano. Tra l'altro è stato provato e straprovato che è una persona che uno la prende per mano e la porta dove vuole e questo è evidente. Eccolo qua zio Michele oggi a questo aspetto tra l'altro dovete sapere che lui ha scontato otto anni di carcere per soppressione di cadavere e inquinamento di prove ed è stato scarcerato perché ha concluso di scontare la sua pena e attualmente è tornato a casa sua ovvero in quella casa dove si sarebbe consumato il delitto di Sara dove in garage lui tiene l'altarino di Sara lui ancora dorme lì vive lì e lavora lì perché lui lavora in campagna ha sempre gridato la sua colpevolezza che è una cosa assurda da vedersi cioè solitamente vediamo assassini o presunti tali in carcere che gridano la propria innocenza è la prima volta che vedo un presunto assassino facciamo così presunto assassino che viene in qualche modo scagionato dall'omicidio ma condannato per la soppressione del cadavere che uscito di galera grida che deve stare in galera lui perché è lui il colpevole ma perché nel momento in cui Enrico Tironi nel caso Iara dopo quattro volte che dice di aver visto quello che ha visto la quinta ritratta e scappa allora è vera la ritrattazione ma il fioraio che dice di aver visto quello che dopo vi spiego di aver visto il rapimento di Sara poi ritratta allora non è vero vedete che poi fanno cherry picking prendono quello che gli è comodo se gli è comoda la ritrattazione allora è vera la ritrattazione se gli è comoda la prima dichiarazione allora è vera la prima dichiarazione quando Misseri ne fa sette diverse ci arripiccano la dichiarazione che gli fa più comoda loro questo non è un processo queste non sono indagini che hanno un senso in ogni caso che ci abbiano preso per botta di deretano questo processo è stato fatto malissimo queste indagini sono state fatte malissimo quindi che alla fine ci abbiano preso che abbiano indovinato non l'hanno fatto col metodo giusto quindi questo processo sa da rifà assolutamente per poi riconfermare lo stesso risultato mi sta benissimo ma almeno facciamo un processo equo un processo giusto dove ci siano delle prove che siano delle prove e che non siano il sogno di un fioraio per dio oggi che è uscito di prigione lui continua ovviamente a urlare la sua colpevolezza continua tra l'altro a scrivere ogni mese in carcere a moglie e figlia che puntualmente da anni non gli rispondono ma lui continua comunque a mandargli lettere lettere in cui scrive sostanzialmente sempre la stessa cosa ovvero che ribadisce la sua colpevolezza e chiede perdono per aver detto la falsa come dice lui ovvero averle accusate aver accusato la figlia per salvare se stesso quindi ha sacrificato la figlia per la sua salvezza insomma padre dell'anno altre volte come credo sia questo caso ma forse anche quello di Liliana non credo che ci sia nessuno da coprire semplicemente devono coprire se stessi perché fanno i lavori ad mentula canis e quindi in qualche modo sapete no quando copri la cacca con un'altra cacca poi diventa una montagna di cacca la montagna è inamovibile dopo deve rimanere tale ora tornando a Michele lui ribadisce ovunque possa rilasciare delle interviste e la sua colpevolezza in questi giorni lo ha fatto anche con il quotidiano la stampa lo ha fatto a quarto grado lo ha fatto a Le Iene che uscirà domani per voi dello youtube stasera l'intervista ripete insomma di aver ucciso sua nipote Sara dopo aver tentato di abusarla e appunto come vi dicevo domani domenica 13 ottobre uscirà la sua attesissima intervista confessione a Le Iene dove tra l'altro ha raccontato nei particolari quello che ha fatto quel maledetto 26 di agosto tra l'altro non so come ma probabilmente diversi giornalisti hanno già visto questa intervista perché ho trovato diversi articoli nella quale veniva sbovinata praticamente nella sua totalità quindi vi riuscirò ad anticipare diciamo i punti salienti che toccheranno stasera per voi del twitch domani ma perché dovremmo credergli dopo tanti cambi di versione lui a questa domanda risponde così dice non mi credono perché mi hanno fatto cambiare le versioni non le ho cambiate io me le hanno fatte cambiare lui sapete che si esprime in maniera molto terra terra quindi diciamo che quando è lasciato a se stesso la sua unica versione resta quella ovvero sono stato io nell'intervista a Le Iene con l'inviato Alessandro Sortino zio Michele racconta che quel maledetto giorno il trattore non partiva e Sara quel giorno lì era scesa in garage da lui probabilmente per chiedergli se poteva citofonare a Sabrina magari ancora dormiva o scendeva normalmente cioè era la sua seconda famiglia quella Michele dice che quel giorno Sara era vestita in modo diverso dal solito e che non l'aveva mai vista vestita così dice ho allungato la mano e l'ho presa dalle spalle mi ha dato un calcio da dietro e mi è salito un calore sostanzialmente gli ha dato il calcio nelle palle forse voleva scappare e io ho preso la corda volevo violentare Sara ma non ci sono riuscito avevo allungato le mani qui nel garage volevo continuare ma poi non l'ho più fatto sotto il fico l'ho spogliata ma poi non l'ho fatto più e l'ho rivestita erano due anni che non avevo rapporti sessuali con mia moglie io dormivo nell'asdraio lei nel letto matrimoniale questa è un po' la spiegazione del movente cioè gli è preso il fuoco schuale sono presi i calori e lei giustamente si è difesa dalla molestia e a quel punto lui l'ha uccisa probabilmente per non farla parlare lui dice che è stato preso da questo calore al capo calore alla testa per cui ha perso il controllo Michele parlerà anche di alcuni momenti che ha vissuto in caserma in particolare quelli che hanno preceduto il ritrovamento del cadavere della povera Sara avvenuto poi in seguito alle sue dichiarazioni sappiamo che Michele ha deciso di portare l'inviato delle iene sul posto e gli mostra anche l'albero di fico che secondo il suo racconto sarebbe stato la prima tomba di Sara che tra l'altro è a pochi metri dalla casa in cui lui ha passato l'infanzia Michele durante questa intervista descrive e mima tutto quello che ha fatto il 26 agosto come ha posteggiato l'auto una volta giunto lì come ha tirato fuori il cadavere dal bagagliaio come l'ha appoggiato a terra come l'ha poi sollevato parla anche dei vestiti di Sara che prima li ha tolti e poi insomma nell'intenzione di fare quella cosa brutta che inizia per necro e poi alla fine li ha bruciati insieme al cellulare di Sara che però ha deciso di salvare dalle fiamme ecco perché poi l'ha fatto trovare parla durante questa intervista anche di un elemento che non era mai venuto fuori prima ovvero di violenze che avrebbe subito quando era bambino lui dice quando avevo sei anni mio padre mi portò in una masseria a fare il pastorello lì mi hanno violentato non l'ho mai detto a nessuno e se l'avessi fatto sarebbe stato peggio erano due padre e figlio e io avevo circa sei anni mio padre non mi ha mai difeso perché io non potevo parlare ma aveva capito qualcosa perché ci lavava le mutandine e vedeva neanche mia moglie e le mie figlie lo sapevano ora chiaramente non ci sono riscontri il suo papà non c'è più non c'è più nessuno che possa fare me too e dire sì è vero quindi queste sono le parole di Michele è vero non è vero gli è stato consigliato di dirlo vuole in qualche modo giustificare il fatto di essere un pedo perché come ben sapete la maggior parte di coloro che ha istinti ma anche agiti vedo è qualcuno che è stato molestato a sua volta nell'infanzia e chi lo sa magari Michele è conscio di questo per farsi credere ancora di più rispetto alla sua versione inventa di essere stato a sua volta molestato da piccolo potrebbe anche essere vero nessuno ci può dare una risposta sulla veridicità di questa storia torniamo a Giovanni Buccolieri il fioraio sognatore sappiate che Giovanni Buccolieri sul cui sogno si basa la sentenza di condanna continua a dire tutti che quello che ha riferito era e rimane un sogno per chi non se lo ricordasse facciamo un breve rispolvero mentre era alla guida del suo furgone per le vie di Avetrana il 26 agosto del 2010 poco dopo le 13 e 20 aveva visto Cosima Serrano vicino alla sua autovettura o pelastra grigio-azzurro rivolgersi alla nipote Sara Scazzi che era ferma sul marciapiede dicendole con tono minaccioso mo a mchiana intra la macchina ho detto malissimo avevo malissimo credo di parlare meglio l'inglese del pugliese il che tantissima roba ma avete capito no cosa intende perché deve entrare in macchina deve entrare in macchina è un ordine lei deve entrare in macchina contestualmente facendo un gesto perentorio con il braccio e con il dito indice nell'occasione Sara era molto turbata con la testa chinata all'interno dell'auto della Serrano aveva scorto una sagoma di altra persona di sesso femminile con lunghi capelli legati all'indietro che si abbassava mentre Sara entrava in auto dallo sportello posteriore destro che è stata identificata come Sabrina Cosima vestita di scuro rimaneva sorpresa non appena egli la incrociava con il suo furgone tanto che la stessa spalancava gli occhi repentinamente dunque dopo tale racconto ritenuto fondamentale dagli inquirenti in un primo momento e poi dalla corte d'assise successivamente stato appunto fondamentale per consolidare le accuse di sequestro di persone a carico di Cosima e Sabrina però il fioraio Buccolieri cambiò idea anzi fece una ritrattazione sostenendo l'11 aprile 2011 quindi due giorni dopo il primo interrogatorio che si trattava solo di un sogno fatto dopo il ritrovamento del cadavere di Sara si era suggestionato doveva fatto questo sogno e lo aveva raccontato ad alcune persone tra l'altro la situazione adesso non ricordo bene i personaggi ma quando faremo gli speciali andremo nello specifico lui aveva raccontato di aver fatto questo sogno aveva raccontato di aver visto questa cosa a se non sbaglio una dipendente una collega una persona che è andata a riferirlo agli inquirenti per cui lui non è andato di sua spontanea volontà dagli inquirenti a dire ho visto questa scena ma l'ha raccontata e la persona a cui l'ha raccontata è andata a dirlo agli inquirenti al che gli inquirenti lo hanno convocato e lui ha ripetuto quello che aveva detto alla tipa il problema è che secondo quello che dice Michele Misseri ma anche quello che disse all'epoca il fioraio non è andata esattamente così cioè non è che lui due giorni dopo come hanno detto a quarto grado non è che lui due giorni dopo si è svegliato ha detto oh no effettivamente era solo un sogno e vi ho raccontato un sogno in quel momento non sapevo che era un sogno no non è del tutto fuori di melone ma lui cosa ha fatto è andato in caserma ha rilasciato delle dichiarazioni che non sapremo mai quali erano davvero gli è stato messo davanti il verbale e lui ha firmato il verbale così senza rileggerlo grave errore io ve lo dico sempre ve lo dico sempre prima di firmare il verbale anche se siete sicuri di essere stati chiari anche se il carabiniere davanti a voi che raccoglie le vostre dichiarazioni sembra aver capito perfettamente quello che avete detto e sembra che mentre voi parlavate lui stava scrivendo esattamente quello che stavate dicendo tante volte non è così vuoi perché c'hanno la testa balzana vuoi perché vogliono far tornare le cose come vogliono loro vuoi perché sanno benissimo che la gente non rilegge tutto perché c'è anche l'imbarazzo del adesso mi prendo visto che mi hai interrogato per diverse ore mi prendo un'altra ora per leggermi tutto quello che hai scritto no? e tante volte la gente non c'ha voglia di stare lì un'altra ora oppure non vuole in qualche modo mettere in dubbio l'operato delle forze dell'ordine che sono lì perché dai parliamoci chiaro non è da tutti avere il fegato di dire aspetti un attimo che controllo quello che ha scritto se è vero no? perché tanti si sentono in soggezione davanti agli inquirenti e ci sta lo capisco però ragazzi superate questa soggezione superate la vostra timidezza superate anche gli sguardi torvi e il eh ma cosa devo rileggere? no 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 è un vostro diritto proprio siate perché ne va della vostra vita siate ligi e precisi in questa cosa dovete sempre leggere il verbale prima di firmarlo sempre leggere il verbale prima di firmarlo e proprio stampatevelo nella cornice della vostra vita e infatti cosa è successo che lui è tornato a casa si è riletto il verbale ha detto no no al che è andato due giorni dopo in caserma a dire no ma era un sogno ma perché l'avete buttato giù così no? questa sua insistenza poi nel sottolineare come lui non avesse mai visto quella scena in realtà gli è costata non solo a lui ma anche ai parenti che hanno confermato che lui gliel'aveva raccontato come sogno è costata a tutti una bellissima denuncia nonché processo per falsa testimonianza e lui è stato condannato a due anni e otto mesi per falsa testimonianza la falsa testimonianza hanno scelto loro qual era quella del sogno sogno è falsa testimonianza ragazzi ci credo che hanno avuto le porte aperte in corte europea ma questa è una violazione della legge continua e poi ripeto vogliamo credere che davvero siano state Sabrina e Cosimo a ucciderla io non litighiamo eccessivamente su questo però possiamo essere tutti d'accordo sul fatto che questo processo è stato fatto in maniera sbagliatissima proprio per essere gentili perché Buccoglieri ha insistito così tanto per ritrattare quella cosa che ha detto cioè lui una volta avrebbe detto che ha visto veramente e poi ha ritrattato decine di altre volte perché ritrattare aveva paura di Cosimo e Sabrina su serio cioè non ha non ha senso comunque sappiate che in aula al processo di Cosimo e Sabrina lui si è avvalso della facoltà di non rispondere quindi in sostanza abbiamo due persone condannate all'ergastolo a vita che questa condanna si basa su un sogno diciamo ma il cui sognatore non ha nemmeno parlato in aula durante le udienze che hanno portato al carcere fino alla fine dei loro giorni e questa è solo una delle tante anomalie che andremo ad analizzare poi negli speciali speciali che vi ricordo saranno condotti in stile speciali Iara Gambiraso in ogni caso il bucoglieri sarà un punto cardine fondamentale per l'eventuale riapertura del caso e potrebbe diventare un testimone chiave a quel punto poi bisogna capire lui quanta voglia ne ha l'11 di ottobre durante la trasmissione Far West condotta da Salvo Sottile Valentina Misseri la figlia di Michele Cosima nonché sorella di Sabrina ha rilasciato un'intervista lei crede fermamente alla versione del padre che ha anche definito un assassino pedo lei dice secondo me lui ci ha provato con Sara e giustamente lei si è rifiutata e forse lì mio padre ha temuto che Sara l'avrebbe raccontato a noi anche per salvarsi o per scappare quindi secondo me lui è lì che poi l'ha voluta azzittire l'ha voluta azzittire per sempre a uccidere Sara è stato mio padre ma strassicuro proprio sono proprio le carte processuali che un po' me lo dicono perché comunque la prima versione ha un senso logico cioè lineare si capisce cioè una storia per quanto brutta banale anche una banalità che non è stata accettata tutto il resto per me è una sceneggiatura di un film dall'altra c'era proprio l'intenzione dall'inizio di prendere mia sorella poi parla di suo padre zio Michele e dice lo conosco bene e so che quando ha capito che c'era uno spiraglio non ci ha pensato due volte a cercare di salvarsi quindi lei dice conoscendolo bene nel momento in cui c'era lo spiraglio di sacrificare la figlia per salvare lui se stesso la colta poi dice mio padre non è quella persona sottomessa che tutti credono anzi ricordiamoci che dopo aver ucciso la nipote perché io credo sia andata così è riuscito a stare zitto e ingannare tutti per 42 giorni una cosa che mi è molto dispiaciuto sentendo le parole di Valentina è quando racconta dell'opinione pubblica e dell'agonia mediatica che ha subito perché lei dice buona parte dell'opinione pubblica è amareggiata che io stia fuori e non in carcere insieme a mia madre e mia sorella nonostante io sia arrivata da vetrana quasi due settimane dopo ci sono stati momenti in cui ho pensato mesi dopo ho detto adesso verranno a prendere pure me perché così si accontenta di più l'opinione pubblica cioè lei era a Roma perché lavorava all'epoca a Roma è arrivata da vetrana due settimane dopo la scomparsa di Sara e la gente la vuole in carcere perché sì perché sei imparentata con loro allora devi stare in carcere anche tu ma vi rendete conto di che schifo che schifo la massa che schifo a gente che schifo l'ignoranza che schifo l'odio che si diffonde a macchia d'olio anche nei confronti di persone totalmente strane e che non possono fattualmente aver preso parte a quell'omicidio no questa donna è veramente una vittima in tutta questa vicenda perché cioè ha perso tutta la famiglia in una botta sola in più ha perso la cugina perché è stata uccisa da qualcuno della sua famiglia lei è convinta sia il padre anch'io però ma in carcere c'ha la sorella e la madre a cui era attaccatissima tra un attimo ve ne parlo il padre quello libero è quello pedo assassino cioè questa si è vista veramente la famiglia bruciata da un giorno all'altro e in più si vede anche corcata da tutti gli insulti e la gente che l'ha dita anche lei come un'assassina solo perché fa parte di questa famiglia quando lei era da tutt'altra parte cioè è assurdo poi le hanno fatto qualche domanda sulla serie tv che uscirà su disney plus e lei ha detto che non guarderà assolutamente la serie tv che addirittura ha disdetto l'abbonamento perché ha saputo che la serie tv seguirà la versione dei fatti la versione diciamo la verità processuale e non solleverà invece tutti i dubbi che ruotano intorno al caso io avevo sentito delle indiscrezioni differenti ovvero avevo sentito dire che invece veniva messa in discussione in questa serie la versione processuale ma a quanto pare essendo più vicini alla data ad uscita queste indiscrezioni erano errate lo scopriremo solo guardandola così giusto un appunto per concludere Sabrina che come sapete è da 14 anni in carcere nonostante abbia un'ottima condotta si sia addirittura presa un diploma per diventare assistente socio-sanitario e stia frequentando l'università presso la facoltà Dams di Bari non ha ancora avuto nessun permesso e sembra che il motivo per cui non abbia ricevuto nessun permesso è che continua a dirsi innocente e io qui mi chiedo quale accanimento cioè mi chiedo in quale stato di diritto si chiede a una persona di confessare in cambio di un diritto che è suo dopo 14 anni cioè ancora non le hanno dato nessun permesso nonostante l'ottima condotta nonostante abbia preso il diploma per lavorare se lei non dice che è stata lei finché continua a dire innocente lei non potrà avere diritto al permesso ma cosa c'entra ma è folle è follia questa roba è follia ma anche se fosse davvero colpevole ok facciamo che ci credo facciamo che ci credo è stata lei è colpevole però non lo ammette questo dà il diritto di impedirle di accedere al suo diritto di avere dei permessi visto che si sta comportando perfettamente in carcere questo non è accanimento ragazzi perché la odiano perché cioè io non capisco veramente non capisco per ora queste sono diciamo le novità per quanto riguarda il caso Sarascazzi vi aspetto a partire dal 25 di ottobre con l'uscita della serie con tutta la serie di speciali che porterò avanti su questo caso quindi aspettatevi un lavoro in stile Yara Gambirasio è probabile che mettendo le mani nei documenti io possa anche cambiare idea quindi ve lo dico anzi sono la prima ad essere sempre disponibile a mettere in discussione le mie opinioni e credo che sia una cosa che dovrebbero fare un po' un po' tutti è bello anche sbagliarsi ogni tanto quindi per me adesso registriamo che la mia opinione è questa poi vediamo magari la cambio magari o magari invece mi verrà consolidata da quello che leggerò nei documenti nella notte tra il 10 e l'11 di ottobre precisamente alle 2.58 a Rozzano siamo in provincia di Milano in Viale Romagna a pochi passi dal centro cittadino viene ritrovato questo ragazzo di 31 anni Manuel Mastrapasqua in un lago di sangue con una profonda coltellata al torace a trovarlo è stata una pattuglia dei carabinieri di passaggio che ha subito chiesto l'intervento del 118 Manuel è stato trasportato in gravissime condizioni presso l'ospedale Humanitas dove però poco dopo il suo arrivo purtroppo ha perso la vita Manuel lavorava come magazziniere per il Carrefour a Niguarda e abitava poco lontano dal luogo in cui è stato accoltellato lui viveva in una casa popolare con la madre che lavora come cuoca in una RSA il fratello e la sorella il padre c'era ma purtroppo è deceduto nel 2018 lui ha una fedina penale pulitissima era sconosciuto alle forze dell'ordine se non per una sua denuncia di smarrimento che aveva smarrito qualcosa e aveva anche una fidanzata che al momento dei fatti era fuori regione anche perché lei vive in Liguria Manuel viveva con il sogno di mettere da parte i soldi per lasciare la casa di famiglia infatti lui viveva all'estremo risparmio voleva lasciare la casa per andare a convivere con la sua ragazza e tra l'altro fino all'ultimo si è scambiato dei messaggini con lei e lei poi non si è vista più rispondere ai messaggi ha cominciato a chiamarlo chiaramente non sapeva che lui non rispondeva perché era stato ucciso poverino lui è stato ucciso mentre rientrava a casa dopo il turno di notte al lavoro turno serale diciamo tornava sempre a ora tarda quando aveva il turno la sera ha preso quindi l'ultima corsa del tram 15 che parte alle 2.20 da Milano dal capolinea di piazza del Duomo e ha fatto il tragitto verso casa che di solito durava un'oretta arrivato all'altezza della torre Telecom è sceso e qui dopo qualche centinaia di metri di camminata è stato colpito con un violento fendente al cuore un solo colpo che gli è stato fatale ma un colpo profondo dato con forza chi conosceva Manuel lo ricorda come un bravissimo ragazzo e a dire il vero non ci sono molte testimonianze su di lui per sapere qualcosa i giornalisti hanno intervistato una sua ex compagna del liceo che non lo vedeva da diversi anni per cui insomma non molto realistico sul piano attuale comunque per onor di cronaca ve lo riporto lei dice veniva con me al liceo Calvino era serio educato e molto tranquillo sono sconvolta per quanto gli è accaduto anche se non lo vedevo da tempo credo che questa sia un'aggressione ad opera di un balordo lui non aveva a che fare con storie strane però non lo vedevi da tempo era con te al liceo a 31 anni cosa ne sai che non avesse a che fare con storie strane in ogni caso parenti amici sentiti dagli inquirenti continuano a ribadire che lui non aveva brutti giri e che non aveva nemici i carabinieri hanno analizzato e stanno ancora analizzando le telecamere di videosorveglianza e i dispositivi della vittima incredibilmente quella zona è tutta super ripresa dalle telecamere ma nel punto in cui lui viene accoltellato e quindi ucciso ci sono due telecamere che riprendono esattamente quel punto del marciapiede ma erano fuori uso ci stupisce? no però come dire un grande classico un grande classico infatti come dire c'è una telecamera che ha ripreso Manuel all'uscita dal carrefour quindi quando aveva staccato il turno e lo immortala con un sacchetto della spesa quindi lui stava tornando a casa con un po' di spesa di solito chi lavora nei supermercati lo fa il problema è che poi questo sacchetto non è stato più ritrovato sulla scena del delitto è impossibile che lui si sia mangiato tutto il contenuto del sacchetto durante il viaggio avevo iniziato come un'affermazione poi nella mia testa è diventata una domanda scusatemi ma può essere che magari avesse preso che so un tramezzino che si è mangiato durante il tragitto sul tram e che quindi non avesse più con sé questo sacchetto non perché gliel'ha portato via il killer ma perché semplicemente l'ha consumato e l'ha buttato può essere che l'abbia lasciato sul 15 è esatto può essere oppure l'ha preso l'assassino gli inquirenti sono riusciti anche a visionare i video che lo riprendono camminare 100 metri prima di essere accoltellato quindi ci sono proprio i suoi ultimi secondi di vita e sono le 2.54 quando lo si vede procedere a passo svelto verso casa ma ahimè verso la morte e lui viene ritrovato dai carabinieri le 2.58 quindi vuol dire che l'attacco è stato fulmineo ha agito in tre minuti per ora l'ipotesi più gettonata dagli inquirenti è la rapina finita male allora io non so perché la chiamano rapina finita male cioè prima è finita male poi c'è stata la rapina perché non mi puoi dire che la rapina è finita male cioè questo deve aver colpito con l'intenzione di uccidere quindi con ogni probabilità se si tratta di rapina il rapinatore ha pensato uccido o comunque colpisco violentemente la mia vittima e poi la derubo perché in tre minuti non è possibile che ci sia stata una rapina finita male in ogni caso perché pensano alla rapina perché quando Manuel è stato ritrovato agonizzante non solo non aveva più il sacchetto della spesa ma aveva ancora addosso il portafoglio senza però soldi contanti all'interno e qui sovviene un'altra domanda io per esempio non ho soldi contanti nel mio portafoglio io faccio tutto con la carta pago tutto con la carta e quei contanti che mi servono perché so che magari vado in un posto dove li ritiro proprio per l'evenienza ma non ho mai contanti addosso quindi il fatto che non ci fossero contanti in questo portafogli è perché è stato derubato o perché lui stesso non utilizzava i contanti e non ce li aveva nel portafoglio o semplicemente non li aveva il suo cellulare invece è stato ritrovato così come l'ombrello certo che se è stata una rapina per rubare pochi contanti e un sacchetto della spesa mi sembra un po' too much piantare un coltello nel cuore del derubato anche per uno disperatissimo cioè uno che sta morendo di fame e ti deruba in maniera violenta per prenderti pochi spicci e il sacchetto della spesa vuol dire che è disperato parecchio ma comunque un po' too much no in ogni caso io mi auguro che indaghino seriamente come hanno fatto con Sharon Verzeni anche se il caso non è così mediatico mi auguro che cerchino comunque questo assassino e non lasciano tutto a eeeh vabbè rapina opera di ignoti perché comunque resta una persona pericolosissima perché una persona per quanto disperata e povera che uccide per così poco e in maniera così violenta è una persona pericolosissima grazie mille a voi dello youtube per essere arrivati fino alla fine di questo video vi ricordo di iscrivervi al mio canale per sostenere il mio lavoro vi ringrazio tantissimo se lo farete lo avete già fatto e vi ricordo di venire a trovarmi in live su twitch mi trovate qui ogni martedì giovedì e domenica alle ore 20 e potete anche seguirmi su instagram mi trovate come bugalalla grazie mille tanto amore e ci vediamo al prossimo video grazie mille grazie mille grazie mille grazie mille